andiamo a fare la pappa non la vuoi? devi fare le coccoline che la mamma non sta bene devi fare le coccoline o sei cattivo oggi un po' cattivo eh un po' cattivo guardate un po' cattivo vuoi vedere la facciata cattivo? mamma mia qui tocane un po' arrabbiato andiamo a fare la pappa non c'hai fame? non c'hai fame? festeggiamo tanto abbiamo gli stessi capelli anzi guarda forse sono più crespa io di te ora ti faccio vedere ma come mi guardi? festeggiamo guarda guarda la mamma non ho fatto la piega da Michele hai capito? mi sono attorcigliati allora eccomi qui ci ho messo almeno 20 minuti per togliere l'elastico perché si è incastrato nelle punte di questa scopa di saggina si è incastrato ho rotto anche qualche capello ma a questo punto forse è meglio perché questa è la situazione delle mie punte e anche Brownie ha detto non la voglio vedere così ed è scappato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti